Siamo a Milano a Linea Pelle 2018, siamo ora in compagnia del signor Giovanni Stracci, responsabile marketing di SITEC. Ci può dire meglio di che cosa si occupa la vostra azienda? La nostra azienda è un'azienda marchigiana, produce 100% made in Italy, incentivata soprattutto all'export, produce suola in TR, TPU, PU, gomma e soprattutto TPU con poliuretano innovativo, con il nuovo sistema TPU Film, che ci permette di fare un'innovazione sulla suola del made in Italy, in pratica una suola trasparente che ci permette di utilizzare un poliuretano superleggero e molto comfort. I nostri clienti sono soprattutto innovativi sotto il profilo del comfort e quindi con i nostri prodotti cerchiamo una clientela nazionale con un made in Italy al 100% e un'immagine forte sulla ricerca stilistica curata dalla nostra stilista Isabella, che viene dall'Accademia per le Arti Bologna e dall'Astitore di Milano. Questo è un prodotto di gomma naturale, lattice, con inserita paglia di canapa. È un prodotto che punta sull'innovazione per la ricerca dei materiali naturali, sull'ecologico, 100% reciclabile, come questa gomma completamente trasparente, anche questa fatta con il lattice naturale. L'altro prodotto che fa la SIT è che sono i prefresati utilizzando lastre in eva, lastre in micro e lastre in gomma espansa, dove possono essere fatte delle lavorazioni particolari molto personalizzate. Il micro light è un prodotto che viene dal TPU espanso, può essere tampografato, utilizzato da uomo e da donna. Il vantaggio è quello di poter utilizzare guardoli, caricare inserti ed avere un'ottima flessibilità e un'ottima resistenza all'abrasione, oltre che evitare il problema dei buchi nello stampaggio delle suole extra light. Per quanto riguarda il poliuretano extra light, abbiamo un poliuretano che può essere fresato, resistente all'idrolisi, un prodotto molto innovativo che permette anche di essere tampografato e le tampografie possono essere fatte in svariati colori. Per quanto riguarda il prodotto della top line, il mast della gamma, è il TPU PU, prodotto innovativo dove è stato fatto un grosso investimento sull'attrezzatura delle macchine, viene stampato un TPU trasparente o a colore, caricato un film e iniettato con un poliuretano memory, che permette di avere un'ottima flessione, un'ottima resistenza all'abrasione e resistenza all'antiscivolo. Si possono anche utilizzare delle trasparenze importanti per definire la profondità del colore.